Luca Gominelli, la battaglia di bilancio 2019 per tipologia scale, col 2 col 2 calorie bilanciere da 20 kg piscola 15 piscola 15 questa è la partenza 0 diviso un metro e mezzo 1 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Ehi, dimmelo prima Vabbè, dai 5, 4, 3, 2, 1, go Vabbè, dai 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 6 minuti Vabbè, dai 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 Vabbè, dai, dai Vabbè, dai, dai, dai Vabbè, 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 dai Vai, ora, ora, ora Sei a dieci, eh Sei a dieci Dieci e mezzo adesso Dai, dai, subito, subito Dieci e quarantacinque Dai, che poi è finito Dai, dai Dai, dai, dai Dai, dai Dai, ultimi dei passi Dai, dai, dai 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 Dai, dai, dai